Per la giornata di oggi non sarà garantita la fornitura regolare di acqua Sommatino e Delia. Unica eccezione in quest'ultimo comune riguarda le utenze della zona alta dove la distribuzione sarà garantita grazie alle fonti proprie del gestore del servizio. Lo ha reso noto l'azienda Caltacqua che gestisce la distribuzione dell'acqua nella provincia di Caltanissetta a seguito di una comunicazione del fornitore di sovrambito Siciliacque in merito all'interruzione dell'attività del secondo tratto dell'acquedotto Fanaco dove si sono resi necessari tre interventi di manutenzione urgente. Siciliacque ha stimato la conclusione degli interventi iniziati nella prima mattinata di oggi in 12 ore circa e considerando i tempi necessari al riempimento e alla sanificazione della condotta prevede di ripristinare la fornitura entro le 4 di giovedì 22 a Delia e dentro le 12 sempre di giovedì 22 a Sommatino. Caltacqua inoltre renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili.